707 lunedì 29 gennaio good morning milano buongiorno a tutte buongiorno a tutti ben ritrovati qui su crystal radio good morning milano ultimo lunedì del mese stiamo finendo anche gennaio che quest'anno a me non so voi a me è sembrato durare meno del solito di solito sapete che siamo al 64esimo giorno di gennaio oggi è il 38 di gennaio no invece quest'anno devo dire che è andato via abbastanza veloce almeno così mi pare 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 numero di whatsapp a cui potete scriverci con cui potete condividere la vostra giornata la vostra settimana come sarà come inizierà oggi poi è lunedì abbiamo tanti appuntamenti lunedì abbiamo filippo voletti che ci racconta di lavoro ci dà il buon lavoro per iniziare al meglio la settimana poi avremo anche il sommario di senti questa con ambrogio curti e poi un ospite che ci raggiunge quelle 8 ma tutto questo piano piano ve lo dico man mano perché noi siamo qui fino alle 9 a raccontarvi di milano la città metropolitana tutto quello che fa grande la nostra città 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 5 ve lo ripeto ancora così che possiate finalmente condividere con noi la giornata iniziare la settimana nel migliore delle maniere iniziare con il primo passo che appunto quello di ascoltare tutte le mattine qui su crystal radio good morning milano e andiamo avanti musica si parte alfa con bellissimissima e allora oggi 29 gennaio arriviamo da un weekend e anche questa mattina dove è tornata prepotente la shigera sapete cosa è la shigera vero si è il nebion la nebbia eh si è stato un weekend dove la città è rimasta coperta da una coltre di nebbia praticamente tutto il giorno ieri a un certo punto si è un po' aperta ma poi nella sera ancora di nuovo altissimo uno si vedeva il palazzo qua davanti e non riuscivamo a vedere dall'altra parte della strada pensa a te ma oltretutto non è solo la nebbia che è tornata ma anche l'inquinamento perché leggiamo da milano today allarme smog a milano potrebbe scattare il blocco delle auto perché questo potrebbe perché i livelli i livelli di pm 10 le polveri sottili sapete sono preoccupanti hanno superato la soglia per ben quattro giorni di seguito e sapete che dopo un x di giorni scatta il lo stop lo stop degli inquinanti lo stop prima in realtà ci sono vari stop prima i veicoli più inquinanti poi quelli fino ad arrivare nel caso allo stop completo delle auto eh il livello è 50 microgrammi eh abbiamo superato già di molto questo livello ma soprattutto sono andato a vedere il rapporto sul sito dell'amat eh c'è un rapporto ad esempio di venerdì eh venerdì no scusate questo è quello di dicembre no no scusate ok ho tirato giù quello di dicembre perché farvi capire cosa vuol dire nel senso che allora ho tirato giù quello di venerdì 26 gennaio ok qualità dell'aria superata quattro giorni di seguito con superamenti anzi cinque perché anche il ventiquare tutto superato superati cinque giorni di seguito con i livelli di pm10 sopra ai 50 microgrammi eh insomma un livello veramente veramente alto ma soprattutto ehm 41 sono stati eh la media del pm del pm10 valore medio del pm10 è stato 41 nel mese di gennaio e il 31 del pm2 e mezzo sono andato a vedere l'anno scorso come andava eh andava male anche l'anno scorso perché anzi anzi l'anno scorso a gennaio abbiamo avuto 36 di pm10 medio e 29 di pm2 e mezzo quindi siamo già più alti eh solo nel quest'anno abbiamo abbiamo già avuto 11 giorni di sforamento sopra il 50 eh nel solo mese di gennaio cioè da inizio anno sono già 11 giorni su 29 giorni di gennaio non è male eh ma eh soprattutto arriviamo da 48 giorni di superamento dello scorso anno quindi i livelli di pm10 sono sempre più preoccupanti sappiamo benissimo che non è solo un discorso di auto sappiamo benissimo che è un discorso anche di caldaie eh poco importa secondo me perché o per come sta di fatto che bisogna intervenire bisogna smettere di fare dare la colpa l'uno all'altro ma bisogna fare sicuramente un'azione congiunta tra tutti coloro che vivono in questa città dalla parte poi gestire gli scaldamenti dall'altro i trasporti pubblici le auto private eh tutto questo a dimostrazione però di un'altra cosa che comunque area B e area C non servono a nulla perché i livelli sono altissimi e quindi non sono serviti a niente ricordiamo sempre area C basta avere i soldi ed entri lo stesso area B vabbè ti sei comprato ti compri una macchina nuova le auto nuove non sono neanche così inquinanti e quindi se il numero di auto di auto rimane comunque così alto non si riesce ad abbassare i livelli non si riesce abbassare i livelli non si possono abbassare i livelli di inquinanti ma non si riesce neanche a risolvere il problema del traffico e per capirlo meglio andiamo a sentire in diretta la situazione del traffico in questo momento grazie alla redazione di Luce Verde Milano grazie Luce Verde ed eccoci qua di nuovo a Good Morning Milano allora oggi il 29 gennaio del primo giorno dei tre giorni della merla e sì i giorni quelli che dovrebbero essere i più freddi dell'anno ma soprattutto dove ci si auspica che ci sia il freddo perché se sono freddi la primavera sarà bella e soleggiata e calda e arriverà nel tempo giusto se invece sono caldi la primavera arriverà invece tardi è un po' la nostra versione del giorno della marmotta sapete quella che la marmotta esce vede l'ombra non vede l'ombra allora l'inverno è lungo quelle robe lì ecco insomma ecco sta di fatto siamo a quei giorni lì 29 30 e 31 gennaio 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 5 5 grazie mille ad Alberto che ci scrive un whatsapp ricordandoci anche i giorni della merla ci manda un bel una bella gif dove ci ricorda dei giorni della merla ma soprattutto ci dice buongiorno Fabio buongiorno ascoltatori di Crystal Radio buona settimana a tutti freddo e nebbia per tutta la settimana possibile blocco del traffico? chi lo sa chi lo sa potrebbe essere potrebbe essere che parta un blocco non lo so adesso andremo a vedere cercheremo di capire come va nel senso che qui abbiamo un problema l'inquinamento come dicevo prima è a livelli stratosferici bisogna capire come intervenire cosa avete fatto nel weekend? dove siete andati di bello? avete fatto... Alberto mi ricordo ci aveva raccontato venerdì che sarebbe partito per l'oltrepona andare in ristoranti chissà com'è andata io sarei voluto andare tanto tanto anche io con lui facevo una cosa di famiglia potevo farmi mettere sul... mi facevo adottare pur di andare a mangiare un'altra propavese voi cosa avete fatto di bello? dove siete andati? cosa avete fatto? potete sempre raccontarcelo appunto al nostro numero di whatsapp io invece volevo fare una piccola parentesi per ringraziare gli amici di AA di Alcolisti Anonimi che mi hanno invitato in quel di Bucinasco domenica per i loro compleanni cosa sono i compleanni? sono l'anno che si festeggia il primo anno di sobrietà Alcolisti Anonimi è un'associazione davvero importante con tantissimi gruppi sul territorio milanese una quarantina di gruppi nel territorio della città metropolitana di Milano due di questi anche in carcere uno di questi anche nella comunità di Sant'Egidio con i senza tetto un lavoro davvero pazzesco di automoto aiuto fatto proprio da Alcolisti per gli Alcolisti che ieri appunto ha visto a Bucinasco il momento della festa ed è stato un momento molto molto emozionante, interessantissimo, emotivamente insomma coinvolgente molte le testimonianze che sono state fatte perché appunto durante questo compleanno poi vengono anche fatte le testimonianze di chi è un anno o magari anche c'erano dei compleanni di due anni, persone che erano due anni, un anno e mezzo due anni e mezzo che non toccavano più Alcol e che condividevano con altri nelle stesse condizioni o magari che stanno iniziando un percorso ed è davvero quella parola lì ispirazionale viene usato spesso ecco sì, è di ispirazione per chiunque che abbia o non abbia quel problema, che abbia o non abbia quella malattia tu vieni veramente colpito dall'energia che viene sprigionata all'interno di questi gruppi e ieri appunto tutti i gruppi di Milano si sono ritrovati in quel di Bucinasco quindi grazie mille agli amici di AA che ci hanno invitato a vivere questa bellissima giornata insieme a loro è stato bello anche vedere che c'erano le istituzioni perché c'erano sia il sindaco di Bucinasco c'era anche il sindaco dei Marchi del comune di Milano c'era il direttore dell'ufficio salute e sanità del comune di Milano insomma tante persone che hanno ascoltato e che possono dare delle risposte positive delle risposte anche propositive a un tema molto complicato, difficile sicuramente da gestire ma che grazie a delle associazioni come AA viene molto bene gestito 40 e passa gruppi fatevi un giro sul sito e se siete in quelle condizioni o se conoscete qualcuno che è in quelle condizioni magari girate il link può servire, a volte basta un messaggio per far cambiare la vita a qualcuno basta una piccola spinta e la vita di quella persona può cambiare la propria vita e anche quella di chi gli sta intorno Noemi ci introduce nella seconda mezz'ora di trasmissione qui sempre su Cristal Radio a Good Morning Milano abbiamo parlato di inquinamento, abbiamo parlato un po' di quello che si può aspettare dalla settimana meteorologica che sta arrivando tanto freddo, oggi anche tanta nebbia, il rischio di un blocco delle auto è veramente alto soprattutto visti i livelli di inquinanti e i livelli di superamento del PM10 dai giornali ci sono un po' di notizie che leggiamo prima di tutto parlando di traffico parlando di ho sbagliato giorno dicevo allora parlando di oggi parlando della giornata che andiamo a vivere parlando di inquinanti oggi 29 gennaio infatti avevo visto questa notizia adesso non la trovo più ma perché si è apparsa la pagina nel 1886 il signor Benz sì proprio quello Carl Benz quello che adesso è Mercedes Benz quello lì il signor Benz brevetta la prima vettura a motore tutto ebbe inizio 138 anni fa oggi quindi se parte inquinamento lo dobbiamo anche a questo sicuramente ripeto non è la causa principale ma è anche dovuto a questo tante poi nati oggi volete sapere chi è nato oggi? Tom Selleck ve lo ricordate? Magnum P.I. proprio lui proprio lui Tom Selleck 79 anni fa portati greggiamente secondo me visti ultimamente ancora è un gran figo non c'è poco da fare veramente un gran gran figo scomparso oggi invece chi? nel 2012 Oscar Luigi Scalfaro il presidente eh sì io non ci sto quello lì quel presidente lì moriva appunto 12 anni fa nel 2012 il 29 gennaio ci lasciava Oscar Luigi Scalfaro notizie invece di molto più terra terra molta più entità faccio fatica anche a dirvelo San Siro ebbene sì dal Corriere Milano San Siro l'ultimo progetto da 300 milioni per convincere Inter e Milan a restare Torri Torri Quarto Anello e Diapason scritto così non si capisce sembra un anticoncezionale il Diapason comunque in questo caso Sala spunti interessanti dice partita ancora aperta le squadre non hanno ufficialmente rinunciato a uno stadio che sorga sulle ceneri del Meazza c'è anche il rendering stranamente non c'è tutto c'è un po' di Amazzonia ma non tantissimo come al solito qualche albero messi giù messi bene direi ci hanno fatto una cosa che ha un senso devo dire poi in realtà ci sono dei render di fianco ci sono dei palazzi che non ci sono comunque qual è l'idea qua di mettere lo stadio a posto farne un quarto anello esterno cioè attaccato diciamo tra il terzo anello e il secondo anello così che ci siano dentro tutte le facilities tutte le robe dei VIP premium classe compagnia cantante due torrette di fianco qualche due grattaceli alla fine non altissimi sono poco più alti dello stadio che potrebbero diventare gli headquarter di Milano e Inter o comunque essere collegati con lo stadio tramite una rete di passaggi sotterranei e un grande parco questa è l'idea un'idea interessante 300 milioni è un progetto insomma neanche poi così stratosferico per essere quello che è secondo me interessante io ve lo dico ancora per l'ennesima volta quello che penso che potrebbe succedere il Milan secondo me va a San Donato ormai quasi sicuro a farsi il suo San Francesco lo chiamo così ma lo stadio di San Donato secondo me è l'Inter invece che ne sappiamo che magari rimanga San Siro io abbiamo parlato di San Siro scusate è successo di tutto qua con la regia comunque dicevo abbiamo parlato di San Siro e abbiamo detto appunto come lo stadio potrebbe spostarsi non spostarsi San Siro San Francesco lo chiamo quello di San Donato sta di fatto che insomma sono marchi anche quello c'è San Siro se ci pensate è un vero e proprio marchio un vero e proprio nome e il consiglio comunale ha fatto una delibera interessante perché e leggiamo da Repubblica Milano intitola così servirà un bollino etico per usare la parola Milano nei marchi registrati il comune verso un nuovo regolamento per il nome della città è interessante no a chi diffonde messaggi discriminatori razzisti e stop a chi lede l'immagine civica non potrà essere associata ovviamente la parola Milano ad alcolici né a farmaci un esempio su tutti fanno un esempio niente grappa Milano o nel caso qualcuno si inventi le sigarette Milano ecco non potranno più esistere cose del genere good morning Milano credo ci lo lasci adesso sindaco non so se non ci lasci Milano nel titolo siamo messi in mano come se fare good morning città in mezzo alla pianura padana non funziona bene come titolo cioè non viene bene oppure chissà se adesso faranno una cosa così anche coi quartieri cioè se non posso più chiamare fare una rubrica chiamata good morning lambrate eh bisogna capire è interessantissimo però come cosa perché appunto parliamo di marchi registrati marchi che utilizzano la parola Milano che sappiamo avere una pill molto molto forte anche e soprattutto a livello internazionale mi immagino che lo so camice Milano forse esiste anche non lo so fa figo in giro per il mondo una roba del genere oppure vestiti soprattutto nella moda o così ma anche appunto nell'alcol mi viene in mente non so la grappa o vino vino magari non è molto milanese ma non so Milano Gin 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 Milano non è male Milano Gin Gin non sarebbe male comunque tutti i nomi che da adesso per essere registrati al marchi e brevetti del ministero competente devono avere il benestare del comune servirà una sorta di nulla osta in più la parte del comune che verificherà chi fa la richiesta per cosa verrà utilizzato quel marchio quindi non potranno essere utilizzati ad esempio dicevamo per messaggi discriminatori razzisti per ledere l'immagine civica e non potranno essere associati né ad alcolici né a farmaci o tali nel senso cose simili è una delle prime città in Europa anche a regolamentarsi in questa maniera a Milano in realtà si prende spunto dalla legge nazionale del 2019 che impedisce comunque all'ufficio italiano marchi e brevetti di registrare marchi con all'interno nomi di stati enti pubblici forze armate e forze dell'ordine se non su autorizzazione dell'ente citato uno su tutti aeronautica militare sappiamo che esiste quel marchio molto probabilmente hanno l'ok dall'aeronautica militare ma anche l'esercito ha una linea sua di abbigliamento ci deve essere la marina la marina ma perché hanno l'ok dall'ente io non posso domani mattina inventarmi una roba e chiamarla che ne so repubblica italiana ecco non si può fare devi chiedere il permesso così sarà anche per la parola Milano quindi Milano diventa tutti gli effetti se ne avevamo il dubbio siamo un po' stolti ma diventa tutti gli effetti un brand e quindi e quindi ufficio legale di Good Morning Milano iniziamo con le pratiche per registrare bene il nome a questo punto non ce lo possono più levare Good Morning Milano perché noi parliamo bene di Milano Calcutta due minuti ed ecco gli applausi di Calcutta che arrivano per tutti voi che ci state ascoltando e che ci state scrivendo al 331 7853555 nel weekend vi ho chiesto cosa avete fatto molti di voi sono andati sicuramente alla Milano Tattoo Convention eh sì c'era Milano Tattoo Convention al Super Studio Maxi di Milano c'erano anche tatuattori da praticamente da ovunque pensate c'è anche questo giapponese che si chiama Orizakure Orizakure si chiama e viene da un paesino che è proprio alle pendici del Monte Fuji e utilizza una vecchia tecnica ormai quasi non utilizzata più da nessuno ma lui è un maestro di questa tecnica che si chiama la Tebori Tebori una tecnica appunto antica di tatuaggio tantissime le tendenze che si sono capite verso cui si sta andando da una parte la Fine Line la linea fine quei disegni puliti e quasi microscopici fatti con come fosse col tratto pen sembrano fatti nel senso proprio io non sono molto tecnico dall'altra però anche i famosi soggetti amati dai trapper insomma sappiamo robe in faccia gotiche quella roba lì mi chiedo se il nostro ospite che sta per raccontarci cosa succede lunedì sotto quella camicia e sotto quella cravatta sia magari pieno di tatuaggi chissà magari scopriamo che Filippo Poletti top voice di LinkedIn in realtà ha un buon lavoro tatuato sul petto scritto in gothic o cose del genere oppure un I'm the top voice sulla schiena con il logo di LinkedIn incorniciato incastonato in rose con spine e like sanguinanti no non lo so non credo glielo chiederemo sicuramente quello che lui ci racconta tutti lunedì è il buon lavoro cioè le buone notizie che hanno a che fare con il mondo del lavoro non solo quindi brutte notizie non solo cose di cui discutere ma anche cose che possono ispirarci e ci possono far capire come il mondo del lavoro è fondamentale per tutti noi Filippo Poletti Buon lavoro a tutti dedichiamo questa settimana al tema dell'intelligenza artificiale e ci concentriamo sulle opportunità tanti in questo momento parlano di rischi ebbene vediamo quali sono gli aspetti positivi legati alla rivoluzione tecnologica in atto la prima parola chiave della settimana è mille offerte sono ben mille le offerte di lavoro legate all'intelligenza artificiale attive su LinkedIn o LinkedIn in Italia è uno degli aspetti positivi legati appunto alla Iacene l'epoca dell'intelligenza artificiale nasceranno tante nuove professioni o meglio quelle attuali si arricchiranno ci saranno l'IA medico l'IA fiscalista l'IA notaio l'IA commercialista e così via in sostanza tutti avranno un coach a bordo campo la seconda parola chiave della settimana è produttività l'utilizzo dell'intelligenza artificiale porterà a parità di ore di lavoro a una maggiore produttività stimata nel 70% in Italia generando un più 18% di PIL quasi 310 miliardi di euro quasi il PIL della Lombardia un quinto del PIL dell'Italia lo dice uno studio di Ambrosetti ripreso nel mio libro dal titolo Smart Leadership Canvas come guidare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale con il cuore e il cervello la terza e ultima parola chiave della settimana è debito digitale l'intelligenza artificiale permetterà ai professionisti di risparmiare 5,7 miliardi di ore all'anno avranno cioè più tempo da dedicare ad attività ad alto valore aggiunto consentendoci di diminuire il cosiddetto debito digitale che ci vede oggi ricevere ogni giorno tantissime email e centinaia di chat su Teams opportunità dunque non solo rischi legati all'intelligenza artificiale fondamentale che al centro del lavoro ci sia la persona buon lavoro a tutti 7,53 minuti good morning milano e non è stato un good morning quello invece che c'è stato a Bernate Ticino eh sì perché la panchina gigante che c'era a Bernate Ticino è stata distrutta dai vandali e gettata nel fiume detta così se è una notizia va bene solito atto vandalico no va a capire quanto la mamma degli imbecilli è sempre incinta e quanto ahimè un comune come quello di Bernate ne abbia visti almeno un paio o qualcuno perché da solo non ce la fa a farlo che hanno preso residenza lì e mi spiace per tutti gli altri invece di Bernate Ticino che avevano molto apprezzato l'iniziativa iniziativa quella della grande panchina che era la prima in Lombardia la prima grande panchina in Lombardia all'interno del parco di Bernate Ticino che tra parentesi è un parco riserva riserva dell'UNESCO un posto bellissimo sul Ticino la panchina monumentale è la 325esima nel mondo come installazioni nella Big Bench Community Project ed era la prima invece allestita nel milanese ma già dal giorno dell'inaugurazione non era andata bene nel senso che proprio il giorno dell'inaugurazione dei vandal l'avevano vandalizzata scusate il gioco di parole con delle scritte si era riuscito grazie a dei volontari sistemare il tutto in tempi record ma nella notte di questo weekend tal venerdì e sabato invece assalto pianificato come dice il sindaco di Bernate Ticino la sindaca di Bernate Ticino Maria Piacolombo perché dice la struttura metallica che sta segata i bulloni che non si svitano a mano sono stati svitati le assi una a una staccate e tutta la struttura buttata nel Ticino complimenti davvero agli imbecilli che insomma sono sempre sempre in giro e molta solidarietà invece agli amici di Bernate Ticino My Sharona e Knec 8 e 10 minuti bentornati seconda ora di trasmissione Good Morning Milano sempre qui su Crystal Radio sempre qui per raccontare un po' a Milano quello che viene a Milano e oggi parliamo di politica ma sapete quando parliamo di politica non siamo delle rotture di scatole come molti altri ma anzi vi portiamo delle belle storie come ad esempio quella del nostro ospite di oggi Andrea Maniscalco buongiorno Andrea buongiorno a tutti allora che cos'ha di particolare oltre a essere un bellissimo ragazzo biondo mi fa sfigurare Viola dobbiamo fare qualcosa qua dobbiamo chiedere prima il casting agli ospiti perché non va bene poi mi fanno sfigurare ma soprattutto mi fa sfigurare perché alla giovanissima età di quanti anni hai? 20 anni 20 anni è già molto ben impegnato politicamente poi sul bene non lo so dipende cosa ne pensate voi adesso sentiamo cosa fa ma nel senso comunque complimenti per l'impegno politico grazie mille e allora Andrea tu sei il vice coordinatore dei giorni di Forza Italia di Milano giusto? esatto ok dalla tua bio su Instagram tra questi complimenti anche per il nickname offreddoalle.mani mi piace cioè maniscalco abbreviativo mani fin dall'elementare e quindi offreddo infatti bellissimo bellissimo ma tu metti nella tua bio come prima riga liberale e berlusconiano e lo fai senza vergognarti assolutamente beh dipende da come la si pensa e molti me lo dicono visto che il mio hobby preferito al posto di studiare è litigare nei commenti di Instagram sei laureato in quello mi sa ormai sì sì laureato magistrale ecco diciamo che non fai nulla per evitarlo perché davvero una bio così non voglio sapere cosa ti porti beh è anche abbastanza divertente provocare ah vedi 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 però ti chiedo che cosa significa per un ragazzo di vent'anni essere liberale e berlusconiano tu Berlusconi l'hai vissuto poco l'ho vissuto poco ma quelle poche volte che l'ho incontrato ho potuto vedere la sua grandezza la sua lungimiranza e appunto la lucidità mentale di un uomo comunque anziano che però mi ha segnato tanto anche in così poco tempo e cos'è che non abbiamo capito allora noi altri che ogni volta lo smontiamo ogni volta lo denominiamo ovviamente io devo fare il controaltare in questo caso assolutamente sì sì che cosa non abbiamo capito di quell'uomo allora secondo te beh penso che nel senso lui era una persona molto divisiva di natura anche se poi a livello pratico tentava sempre di unire però sì capisco che ha subito appena entrato in politica ha creato la contrapposizione tra lui e i cosiddetti comunisti e appunto diciamo che non l'hanno presa benissimo hai detto cosiddetti tu non sei uno di quelli che vede comunisti in ogni angolo oppure ci sono ancora ci sono ci sono però insomma diglielo a quelli di sinistra perché non se ne sono accorti evidentemente loro che invece ci sono perché li stanno cercando da anni e non stanno dove sono finiti hanno perso completamente una bussola è un po' soggettiva la descrizione di comunista ok invece liberale liberale che significato dai tu oppure c'è un significato più alto che da cui non si può prescindere ma vabbè c'è il significato base diciamo di liberale che è credere nelle libertà individuali sia economiche che civili quindi io sono liberale in quel senso non è affare dello Stato la maggior parte delle cose che faccio ok però la destra ultimamente su certi temi soprattutto personali ci entra spesso abbiamo diritti LGBT aborto e tutta quella quella spera lì fine vita assolutamente però ci tengo a sottolineare che non è la posizione unitaria del centro-destra visto che appunto soprattutto in Forza Italia abbiamo tante persone attente a queste tematiche tre bandieri hai messo sul tuo sul tuo profilo la bandiera dell'Italia la bandiera dell'Europa e credo non so se non credo sia la bandiera della pace la bandiera LGBT ok la bandiera LGBT fa strano vederlo su un profilo di qualcuno in Forza Italia spiegacelo vabbè io sono omosessuale però non credo che appunto volevo avere un'idea di andare al Pride quest'anno con un cartello con scritto non siamo tutti comunisti diciamo che appunto non è che l'orientamento sessuale deve necessariamente avere una prerogativa dell'essere di sinistra o di avere delle idee stataliste chiaro tempo fa ho avuto ospite Matti Abdu che è presidente del municipio di Milano che diceva soprattutto quando era successo con la russa una certa discussione diceva io sono comunista e gay il peggio che la russa possa immaginarsi uno simoro uno simoro però anche anche nella posizione del centro-destra appunto questa cosa non è vista o meglio non so non è vista bene non è capita non la capiamo noi da fuori che magari invece pensiamo che sia ancora tutto così chiuso e invece tu non sei la prova vivente che non è così non so sicuramente in Forza Italia non è chiuso visto che il partito su questi temi ha sempre lasciato libertà di coscienza quindi anche in Parlamento ci sono nostri parlamentari che hanno votato l'IDL-Zan le unioni civili e tutte queste cose diciamo che Lega e Fratelli d'Italia non è affar mio però la situazione credo sia un po' diversa ma io in senso noi rimarchiamo le nostre differenze con loro nonostante siamo nella stessa coalizione è interessante nel senso che questo porta un po' a quello che dicevi prima Berlusconi un personaggio molto divisivo ma che poi però cercava di unire forse è questo che dovrebbe fare un po' anche il centro-destra o magari l'azione di giovani come te che all'interno di una coalizione così ampia possono cercare di unire su certi temi assolutamente sarà difficile perché c'è un certo mondo per esempio rappresentato dall'associazione Pro Vita e Famiglia tutte queste realtà che è complicato anche discuterci però certo si cerca sempre di arrivare a una sintesi e io ti faccio i complimenti perché davvero tu sei la prova in questo momento di come magari uno ha un pregiudizio diciamocelo ecco arriva quello di destra con la giacchetta e la cravatta che mi racconta ce l'aveva su con gli immigrati ce l'aveva su con i diritti e mi hai già smontato i Pro Vita mi hai parlato dei diritti LGBT insomma adesso mi hai messo se fossi il classico giornalista legato alle sue cose mi mettevi in crisi per fortuna che anche io voglio essere open minded e capire davvero come un ragazzo di vent'anni si avvicina con così tanta passione alla politica tanto da diventare vice coordinatore dei giovani di Forza Italia responsabile del dipartimento università di Milano di Forza Italia e Milano la guida dell'onorevole Rossello insomma la passione arriva forse da lontano ne parliamo fra pochissimo subito dopo che ci ascoltiamo The Kid Laroi con Thousand Miles Thousand Miles The Kid Laroi alle 8 e 20 minuti qui su Christian Radio Good Morning Milano stiamo parlando di politica politica giovani università anche perché appunto il nostro ospite Andrea Maniscalco è anche il vice coordinatore di Forza Italia giovani Milano ma soprattutto il responsabile del dipartimento università di Forza Italia Milano Milano città universitaria a tutti gli effetti che però si dimentica troppo spesso degli universitari com'è sta storia? Eh che Milano è anche tanto altro per fortuna o purtroppo capitale della moda capitale economica sedi di tante imprese Quali proposte possono uscire dal vostro dipartimento perché credo sia poi in vista delle prossime elezioni amministrative giusto? Certo adesso ci stiamo concentrando soprattutto sull'housing universitario per capire quale può essere una soluzione equilibrata perché alla fine non è che si può andare dalle persone che affittano le case e dire non puoi affittarla più di 500 euro al mese sarebbe una misura stalinista praticamente però bisogna trovare una soluzione che ci siano e non ci piacciono gli stalinisti assolutamente ribadiamolo bene sono ancora ad oggi come sempre dei poveri comunisti citazione citazione no giustamente dici quindi l'housing il problema lì appunto mi immagino che la soluzione potrebbe essere una commissione tra privato e pubblico come potrebbe funzionare assolutamente stavamo pensando ad aumentare tra virgolette delle borse di studio che siano o comunali o regionali comunque ovviamente in base al reddito perché non ha senso aiutare chi si può permettere una casa sarebbe uno spreco di soldi pubblici che purtroppo abbiamo visto negli ultimi anni grazie a Conte però certo in base al reddito all'ISE si possono dare degli aiuti mirati per aiutare appunto gli studenti a vivere dignitosamente in questa città Milano è sempre più attrattiva a livello universitario tantissimi studenti che arrivano da altre parti d'Italia e anche tantissimi dall'estero tantissimi stranieri che vengono proprio a studiare a Milano perché scelgono le facoltà di Milano secondo te questo trend è ancora in espansione e sarà sempre più così che cos'è che rende Milano così attrattiva? ma penso che in Italia Milano è unica è l'unica città tra virgolette europea che c'è a Milano anche il paragone con Roma Napoli che sono bellissime città ma sono ancora ancorate alla tradizione italiana un po' di caos inefficienza e mezzi pubblici che funzionano poco Milano anche grazie alla sua piccola relativamente piccola dimensione territoriale funzionano meglio i servizi soprattutto una città giovane una città con una vita sempre sempre in movimento a tutte le ore del giorno quindi penso sia attrattiva per i giovani mi stai facendo i complimenti faccio una citazione da Moretti dica qualcosa di destra a questo punto dica qualcosa di destra perché Milan è sempre Milan che sia di sinistra o di destra ovviamente critichiamo Sala su tantissime tematiche in primis la sicurezza i trasporti la mobilità per l'amore di Dio cosa c'ha contro la mobilità non vanno bene le piste ciclabili assolutamente ma perché voi mi spiegate perché voi di destra ce l'avete su con le piste ciclabili vi sta sulle balle il ciclismo qual è il problema vostro mio padre è un ciclista appunto anche Dubini dice che le piste ciclabili ho problemi con le piste ciclabili fatte male che sono pericolose per i ciclisti per i pedoni e per gli automobilisti perché una linea tracciata per strada non è una pista ciclabile pedonalizziamo a questo punto? dipende in alcuni contesti si può pedonalizzare però in altri sono davvero senza senso le piste ciclabili ci si passa mai visto un ciclista sono lì per bellezza le usano come parcheggio in doppia fila quelle macchine le usano come in doppia fila sì perché non ci sono i ciclisti ah è culpa del ciclista se la macchina è un po' di doppia fila mi sta dicendo questo no assolutamente no ah ok ok invece area c area c è giusta area b è il problema area c è giusta aspetti aspetta sì sì poi ci si insulta si dà del lei quando si è carino si dà del tu facciamo così l'aumento dei prezzi non è giustificato perché alla fine ci sono persone che ci abitano per esempio anche miei nonni che abitano proprio appena al confine di area c e si vedono togliere gli accessi e comunque sono persone anziane che hanno bisogno di prendere la macchina per muoversi l'aumento a 7 euro e 50 mi sembra completamente fuori dal mondo perché non ci sono solo turisti sì mi è sembrato anche abbastanza inefficace in realtà ma anche l'area b è inefficace però il problema vero è l'area b perché alla fine penalizza soprattutto le fasce più deboli della popolazione che sono costrette a cambiare macchina probabilmente non hanno neanche soldi per farlo ho capito che sei molto affezionato alla città di Milano ti piace oggi la notizia di oggi che il consiglio comunale ha deliberato il fatto che la parola Milano possa essere utilizzata in alcuni brand solo dopo una concessione da parte del comune dell'utilizzo di questo nome perché noi con Good Money Milano dobbiamo capire se possiamo continuare a usare o no ad andare a citofonare a Palazzo Marino e chiedere se posso però ad esempio soprattutto per non usarlo ad esempio in alcolici non usarlo in situazioni in cui la parola Milano sia forviata diciamo o forviante dal punto di vista del senso civico della città dipende adesso non ho letto la proposta adesso andiamo a cercare intanto però secondo me da come me la stai dicendo tu non mi sembra una scelta molto intelligente perché magari esempio c'è un super alcolico molto famoso che è stato fondato a Milano ci sta se facciamo un esempio proprio sulla Gappa Milano ad esempio la Gappa Milano rischia di non poter più usare il marchio Milano ovviamente bisogna bere consapevolmente e bisogna sempre sottolinearlo però mi sembra mi sembra un po' la filosofia walk cancel culture della sinistra come mettere il vino fa male alla salute sopra le bottiglie Erli Maleskin con Valentine alle 8 e 34 minuti di nuovo qui con Andrea Maniscalco giovani di Forza Italia a Milano siamo parlando di politica come nasce la tua passione per la politica non mi dire quando ero giovane perché lo sei quindi no quando ero bambino ah ok infatti va bene va bene in casa abbiamo sempre parlato di politica non ho nessuno in famiglia che voti Forza Italia quindi gliel'hai fatto come torto gliel'hai fatto a Forza sì sì mi hanno sempre cresciuto con il mito di Berlusconi brutto e cattivo invece la fine sarà che sono un po' ribelle è così capite l'essere punk è vero è questo è fare il contrario con i tuoi genitori ma anche tu sei cresciuto una famiglia diciamo di estrazioni sinistra possiamo definirla così sì una parte di centro nonni materni abbastanza moderati nonni paterni invece del PD ok ma accomunati da non vedere bene Berlusconi questa cosa le accumulavano tutti sì abbastanza anche i genitori abbastanza anti-berlusconiani e invece tu invece io però dai poteva andare peggio poteva drogarsi si diceva una volta queste cose queste frasi no vabbè non ho capito però nel senso in famiglia abbiamo sempre parlato di politica come l'hanno presa quando perché io ho fatto ho avuto una storia un po' particolare ho cominciato a 14 anni nel PD con Renzi ok ci tengo a sottolineare che non è assolutamente il PD massimalista di adesso con la Schlein ti sono dei pochi che difende cioè questa scelta invece di già complimenti mi piace questa cosa poi ho seguito Renzi in Italia Viva ma sono durato poco visto che da quattro anni sono sono in Forza Italia e sono fiero di essere diciamo sono sempre stato abbastanza di centro abbastanza moderato alla fine ho trovato il mio compimento in Forza Italia c'è da capire se il torto più grosso l'hai fatto ai tuoi quando hai scelto di andare in Forza Italia o quando hai scelto di stare con Renzi cioè voglio capire questo quali delle due cose ha ebbè anche Renzi alla fine abbastanza di Forza Italia anche lui ah beh non so quanto sarebbe contento di solo dire oppure forse forse sì parlavamo appunto della comunque ecco la passione per la politica è una cosa che ti ha preso fin da piccolo però ecco c'era un humus buono cioè stavi parlando di politica in famiglia i tuoi parlavano di politica il pranzo della domenica si lanciavano i piatti praticamente su temi politici su temi politici ecco adesso i piatti si lanciano quando va bene e pensate cosa sto per dire per il calcio no per la tifoseria Milano Inter se no sull'ultimo TikTok visto o fatto dalla mamma che ancora forse è peggio come possiamo per insomma tu li vedi tutti i giorni i giovani non credo che in università siano tutti come te che fanno politica o così ma pensavo di Forza Italia no come facciamo a tirare di dentro questi qua cioè oppure meglio così cioè state fuori che è meglio no è un grande problema purtroppo perché l'astensionismo sta aumentando sempre di più anche se le persone che si astengono di più in realtà sono 40-50 anni piuttosto che i giovani capito noi diamo la colpa a loro appunto appunto un po' semplificata questo è un problema ma perché appunto la politica purtroppo è ancora composta da persone che l'hanno resa impopolare appunto che danno questa immagine che la politica alla fine si è tutto magna magna cosa che non è visto che prima di guadagnarci si spende infatti tu non ci mani assolutamente niente ci perdi tantissimo immaginavo quando ci sono le convention il treno ce lo dobbiamo pagare noi i volantini ce li paghiamo noi pensate e sono quelli ricchi sono quelli di forzità no scherzo pensate ma quali sono quelli del PD polemica qui vabbè no invece domande a bruciapelo così su Milano invece ok allora vabbè di cipiste ciclami li abbiamo già detto fatte bene fatte bene cioè sì ma fatte bene basta linee per te ok stadio di San Siro no cosa facciamo sono contrapposto alla linea del mio partito io sono parlo più da milanista che da politico voglio uno stadio privato il prima possibile ovunque sia io avrei preferito buttare giù San Siro e rifarlo qui ok però se sarà San Donato buon viaggio San Donato al San Francesco di San Donato esatto lo chiameremo così perché siamo a San Francesco il quartiere in cui verrà fatto quindi da San Siro a San Francesco va bene sempre Santi anzi avete fatto l'upgrade non ce ne voglia Siro non ce ne voglia Siro ma il Francesco insomma va più Olimpiadi Olimpiadi Invernali a Milano sono un'ottima opportunità per la crescita della città noi del centro-destra prima con Albertini poi con la Moratti siamo sempre stati sponsor di queste di questi eventi così importanti nella città li hai conosciuti i due cittati sopra? sì sì li ho conosciuti Albertini è davvero una persona squisita che sono contento che sia rientrato in Forza Italia mi spiace quasi dati ragione nel senso che effettivamente ho avuto anche il modo di intervistarlo devo dire che insomma caratura di una politica che si ne vedono pochi sì assolutamente invece tema sullo sciopero dei mezzi questa tradizione milanese diciamo che da liberale sarei un misto tra adottare la linea Reagan e la linea Miley ok credo che sia abbastanza chiaro ne hai nominato prima ne hai citato un po' prima questo tema però te lo faccio un po' più sul tema borseggiatrici della metro gialla servirebbe cambiare proprio la normativa a livello nazionale una volta le abbiamo incontrate molto simpatiche qual è il tema secondo te appunto quando dici cambia la normativa perché qual è il tema che non torna il fatto che visto che sono sempre incinte non possono andare in galera questo è il tema fondamentale penso condiviso dalla maggioranza di milanese a parte qualche consigliere del PD capito 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 stavo leggendo un attimino i whatsapp che ci arrivano al 3317853555 altri che ti fanno i complimenti perché è bello vedere come dei giovani si affacciano alla politica quindi complimenti anche dai nostri grazie ascoltatori andiamo avanti intanto con la musica e poi torniamo a tornare anzi torniamo qui a parlare ancora con Andrea Maniscalco politica giovani se volete fare altre domande 3317853555 analisa con ragazza sola e anche voi che siete ascoltando da casa in questo momento magari siete giovani e avete voglia di fare politica e siete anche di destra pensate non siete soli perché c'è anche Andrea Maniscalco destra un po' un parolone ah attenzione attenzione vedi non sbagliamolo su questa cosa del divider dipende cosa si intende destra sicuramente io non sono assolutamente sovranista o iper conservatore vedi ecco bravo Maniscalco ti metti subito al suo posto non ti dice no attenzione destra vuol dire tutto vuol dire niente definiamola bene destra liberale e quindi come dicevi prima l'idea che le cose mie sono mie e non è che lo Stato deve metterci becchi in ogni cosa esatto più o meno detta male detta veloce come che è liberalismo for dummies questo va bene liberismo for dummies è così che apre prossimi progetti futuri in questo caso si chiederebbe se tu facessi il cantante però vabbè fai comunque suono la chitarra ecco vedi anche artistico pensa suono la chitarra cosa suoni ho fatto anche l'artista cosa suono la chitarra country ah beh dai bello un po' Trump un po' no no meglio Nicky ah ok ci stacchiamo da quella roba lì Nick Cave non mi piace no Johnny Cash Johnny Cash ce l'abbiamo Walk the Line come grazie no però comunque appunto non credo che nel futuro ci sia un album country nel tuo futuro non si sa mai non imminente non imminente invece magari la politica invece è più è più imminente che cosa saranno i tuoi prossimi progetti futuri in politica e anche di Forza Italia Giovani beh io avendo anche tra i tre vice coordinatori del del movimento giovanile ho la delega l'attività sul territorio visto che mi piace molto girare per mercati a febbraio con meno due gradi è una passione e ovviamente abbiamo bisogno di di farci vedere più sul territorio visto che spesso si sente di re Forza Italia è morta ma poi non è vero siamo ancora qua sempre vivi e vegeti per alcuni per alcuni è una speranza credo per quello te lo dicono sai come dicono eh sì ma come sempre sono tutti comunisti invidiosi e ovviamente dobbiamo tornare a farci vedere di più sul territorio per i mercati raccogliere le proposte stare più vicino al cittadino perché dobbiamo ritornare ai tempi in cui Forza Italia a Milano c'aveva il 35% eh adesso quanto avete? ma sette secondo gli ultimi sondaggi cosa dicono? fate ancora tutti quei sondaggi che facevate una volta Forza Italia la famosa per fare sondaggi tra per due no di meno di meno come tutti gli altri non ne fate più così tanti e invece dal punto di vista appunto del movimento dell'università che tu che tu segui come si può magari anche interessarsi se qualche studente universitario vuole avvicinarsi appunto di più abbiamo due modi abbiamo il movimento giovanile che ci potete trovare su Instagram Forza Italia Giovani Milano originale però efficace efficace poi abbiamo anche il nostro movimento universitario che si chiama studenti per le libertà siamo attivi in tutte le università di Milano e si può cercare appunto su Instagram il nome della propria università come fare politica all'interno dell'università tu cioè è ancora un senso che dall'altra parte mi viene facile pensare di fare politica all'università con bambini rossi sventolando dalla vostra parte come è possibile beh ovviamente sempre con la Digos perché purtroppo non è un ambiente molto democratico e sicuro con gruppi di sinistra molte volte abbastanza violenti centri sociali e gentaglia di questo tipo bene per fare amici tutti in questo caso diciamo che ho avuto un esempio sono andato una volta all'università appunto con la spilletta di Forza Italia perché poi dovevo andare alle presentazioni della campagna elettorale di Galliani per il seggio al Senato e mi ha avvicinato un comunista ubriaco e fatto che mi ha detto diciamo che il fatto di essere comunista forse era un margine cioè come dire per caso sì sì un studente dell'università durante il fuoricorso da cinque anni se va bene arriva e mi fa sei coraggioso venire con la spilletta ma io grazie è un complimento l'ha fatto un complimento dato del coraggioso però era quasi una minaccia ah sì no ho immaginato che fosse tra le righe c'era da leggere da leggere quello se vuoi darci le coordinate invece per seguire la tua azione politica e per magari mi viene anche da dire ispirare qualche tuo coetaneo adesso non mi arrogo questo ma magari uno vede l'esempio diceva quasi sì ma è importante fare politica anche in peggiori dei casi dice se ce la fa lui esatto l'importante è far politica non farla necessariamente con noi l'importante è agire l'importante è fare qualcosa per cercare di migliorare le cose per quanto mi riguarda potete seguirmi su Instagram hofreddo alle.mani ok oppure su Facebook Andrea Maniscalco queste sono i miei o su TikTok Andrea Maniscalco perfetto Andrea ti ringrazio tantissimo allora per essere stato qui questa mattina con noi grazie a te per l'invito grazie anche alla nostra Viola in produzione che ha gestito tutto quanto Viola la prossima volta però dimmi che viene con la giacca e la cravatta così anche io mi vesto un po' meglio che insomma questo pile adesso è regolo di Natale beh ma forza Italia è scontato eh infatti dovevo forse fare una ricerca io Viola che dici ecco tu non lo sapevi dice Viola Viola alza le mani dice non lo sapevo però anche Viola è sempre molto elegante quindi io vi ringrazio davvero no grazie grazie mille Andrea grazie davvero a te per me e ci sentiamo presto e voglio sentire un po' cosa combinate dove andate assolutamente vi seguiamo vi seguiamo grazie davvero ad Andrea grazie ancora a Viola in produzione andiamo con l'ultimo pezzo perché dopo di noi c'è la sigla 8 e 54 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano come sempre qui su Crystal Radio come sempre qui raccontarvi Milano come sempre ma questo come sempre non deve essere una cosa che annoia anzi è una certezza è una tradizione la vostra tradizione della mattina la nostra tradizione con voi ogni mattina dalle 7 alle 9 e dopo di noi Ambrogio Curti Ambrogio Curti con Senti questa la musica le storie i grandi racconti che Ambrogio ci fa della musica internazionale ed è lunedì quindi mi raccomando la forza sia con voi perché dovete davvero affrontare questo lunedì in al migliore delle maniere e noi ci abbiamo provato dandovi un po' di spunti un po' di informazione e tanta buona musica e allora domani dalle 7 alle 9 qui su Crystal Radio dal lunedì al venerdì questa è Good Morning Milano grazie a tutti di averci ascoltato grazie di averci fatto compagnia buona giornata buon lunedì e buona settimana ciao 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 Oh, oh, oh.